L'Aleonzio comunque è uscita al debutto bene, purtroppo la sconfitta rimane come archivio, però non ci si può dire che l'Aleonzio non ci ha incuriosito al debutto. E questo è un aspetto molto interessante che ci fa capire che comunque il lavoro che stiamo facendo è un lavoro celere, è un lavoro che comunque sta andando per il verso giusto, ci dà l'esatta dimensione che è comunque una rosa totalmente nuova, fatta di 21-22 esimi praticamente nuovi e da matricola oggi siamo venuti qui e dico che abbiamo fatto una gran bella figura, credo che tutti abbiano visto quello che è stata la partita di oggi, purtroppo per il risultato. Ecco lì ti volevo portare, il famoso ribaltone, nel calcio comunque non lo digerisce chi lo subisce. No vabbè, sono cose che ci possono stare a cospetto di una grandissima squadra che deve per forza lottare per raggiungere la Serie B. Noi abbiamo avuto qualche peccato di inesperienza, ma è normale, il nostro percorso è messo nel conto, ma siamo contenti per i concetti espressi durante i 90 minuti. Una cosa che continuo a dire negli anni, esce D'Amico e si perde un perno di equilibrio assoluto per l'Aleonzio, ma l'infortunio non è una cosa grave almeno. No, no, ha avuto una piccola distrazione al collaterale, ma dico che comunque tutta l'Aleonzio oggi nella sua coralità ha sciorinato una bellissima partita, oltre ai due gol abbiamo fallito tante occasioni e comunque siamo molto felici di come siamo usciti da questa partita. Era questo quello che volevo, era una prova piena di personalità, piena di carattere, piena di orgoglio e questo è quello che hanno dato i ragazzi, una squadra nuova, una squadra giovane che oggi ha ben impressionato, secondo me. A proposito, giovane e sgusciante, mi permetti, allora, quale ti piace? Anguilla o scivolosa? Tipo la saponetta, l'Aleonzio, per come è veloce e per come è piccola, a livello non di età soltanto? È uno degli obiettivi che ci siamo prefissati quando abbiamo composto la Rosa, una squadra che comunque abbia tanto ritmo e credo che oggi si sia visto. Potevamo essere forse anche più concreti ed uscire qui con un altro risultato, ma va benissimo così. Per noi oggi era un test importante per verificare altre cose piuttosto che il risultato e diciamo che ne usciamo convinti che il lavoro che stiamo facendo è un lavoro giusto. Grazie a tutti.